Questa esperienza nasce a Oltreoceano perché nasce a Washington, è l'esperienza di Washington che è anche essa all'interno di un progetto più grande, che è il progetto del centro di ricerca Highland che raccoglie diverse università italiane e adesso tutte meridionali, fino adesso tutte meridionali, sono il Molise, Cagliari, Catania, le tre università di Napoli, la seconda università, Federico II è l'orientale, il Sannio, è un centro di ricerca che si occupa di diversità e nell'ambito della diversità abbiamo proposto un panel ad un convegno a marzo che si chiama GURT a Georgetown University ed era una proposta molto ampia perché era a differenza delle partecipazioni ai convegni con degli interventi brevi e singoli, questa era una proposta di panel, proprio un ragionamento sulla diversità e sul cambiamento, su come si sta modificando anche la tipologia di diversità. Questo simposio internazionale è sempre quindi all'interno delle attività di Highland e è nato a Washington perché lì abbiamo conosciuto Tommaso Milani che è uno dei plenary speakers di questo colloquium che riflette sul masculinity ed è un momento di passaggio tra gli eventi, cioè tra i convegni internazionali che vengono organizzati da Highland, l'ultimo è stato a Catania in ottobre scorso, quello precedente in ottobre era stato qui all'Orientale e ce ne sarà un altro a Macerata in marzo del 2016, quindi c'era un tempo da coprire e con l'occasione di GURT abbiamo deciso di organizzare questo simposio internazionale.